È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la mozione presentata dal capogruppo della Lega, Massimiliano Baldini, riguardo la bonifica dell'amianto dell'ex colonia Torino a Marina di Massa. Dopo che era stata avanzata l'ipotesi di un semplice intervento di messa in sicurezza dell'area con la copertura dell'amianto presente per mezzo di una sorta di coperta costituita da materiali compositi, a causa degli alti costi di una bonifica definitiva, il Consiglio regionale si impegna adesso a condividere la questione con gli enti nazionali competenti al fine di trovare le risorse per giungere alla bonifica dell'area fondamentale per lo sviluppo di questa parte di Marina di Massa. Nell'esprimere la sua soddisfazione per questa votazione il Consigliere Baldini ha voluto ringraziare anche il collega del Partito Democratico Bugliani per il coordinamento politico che ha portato all'approvazione all'unanimità. È un provvedimento importante approvato all'unanimità che attraverso l'impegno di tutte le istituzioni può riconsegnare quella zona a tutti i cittadini, a tutti i turisti bonificata anche dalla presenza dell'amianto. Ringrazio in particolar modo il Consigliere Comunale Balloni, Paolo Balloni, tutto il gruppo della Lega e tutto il partito della Lega di Massa che si è impegnato su questa partita e ringrazio altresì il collega consigliere regionale Bugliani che attraverso la sua disponibilità ha permesso un voto all'unanimità.